Salve a tutti crononauti e bentornati su Spazi Attorcigliati. Io sono sempre Davide e oggi, come la settimana scorsa, e se non avete visto il video andate a recuperarlo, sono qui non tanto per rispondere a una domanda, quanto per fare polemica. Perché mi capita troppo spesso di sentir dire che nella Stazione Spaziale Internazionale, o a livello dei satelliti, o in generale nello spazio attorno alla Terra, fuori dall'atmosfera, non ci sia gravità. La gente dice che lì non c'è gravità. E questa è una follia totale. È completamente falso. E cerchiamo di capire perché. Per farlo, dobbiamo fare un passetto indietro e distinguere due tipi di osservatori, immaginandoci solo la gravità, trascurando tutte le altre interazioni che giocano nel cosmo, perché altrimenti non ne usciamo più. Distinguiamo osservatori geodetici, sono gli osservatori che si muovono in modo solidale col campo gravitazionale, che si muovono come vuole il campo gravitazionale, seguendo le sue direttive, e gli osservatori non geodetici, che sono gli osservatori che si muovono contro il campo gravitazionale, non seguendo le prescrizioni del campo gravitazionale. Possiamo distinguerli con nomi un po' più buffi, tipo osservatori fedeli e osservatori infedeli. Gli osservatori fedeli seguono i diktat del campo gravitazionale, se il campo gravitazionale ti tira verso giù, tu cadi e fine, e gli osservatori infedeli non seguono. I diktat del campo gravitazionale si ribellano. Se tu mi dici che devo scendere, io o sto fermo, o salgo, o scendo, ma un po' più piano, o un po' più velocemente di quanto mi dici tu. Ora, questa è la distinzione fondamentale tra gli osservatori nel nostro universo. E ancora una volta, se la nozione di osservatore o di sistema di riferimento non è una roba con cui vi sentite troppo a vostro agio, recuperate il video della settimana scorsa, quello in cui vi racconto perché non è vero in generale che la Terra gira attorno al Sole per entrare nella questione. Ora, tornando a noi, distinguiamo tra osservatori fedeli, fedeli al campo gravitazionale, e infedeli, infedeli al campo gravitazionale. E la loro percezione del mondo è completamente diversa. Partiamo da un esempio di osservatore infedele. Un osservatore infedele è un osservatore che accelera, per esempio, perché sta bruciando del carburante nel motore di un razzo a propulsione nucleare. Siamo tipo in 2001, di Sia nello spazio, sulla Discovery, stiamo andando verso Saturno, verso Giappeto nel libro, e verso, io credo, Giove, nel film e poi nei sequel del libro, perché sappiate che i sequel cartacei di 2001, di Sia nello spazio, seguono il film e non il libro, perché Clark e Kubrick ci hanno lavorato insieme. Insomma, è tutta una storiella un po' pazza, magari ne parleremo in futuro quando riusciremo finalmente a parlare un po' più di fantascienza. Dicevo, siamo su una navicella, stiamo sparando del propulsore, stiamo facendo bruciare del carburante, abbiamo un propulsore che ci sta sparando nello spazio, ci sta facendo accelerare, noi sentiamo un'accelerazione, ci sentiamo spinti sul sedile, questa roba qua è il segno del fatto che noi non ci stiamo muovendo in maniera solidale con quanto vorrebbe il campo gravitazionale. Nel contesto della relatività generale, questo significa che non stiamo seguendo le cosiddette curve geodetiche nello spazio-tempo. Voi sapete che in relatività generale la gravità viene incorporata nella curvatura, nella forma dello spazio-tempo, le curve geodetiche sono le curve analoghe a una curva dritta nel piano, ovviamente in uno spazio curvo la nozione di dritto è un po' strana, ovviamente su una sfera una curva dritta è un equatore, quindi vista da fuori sembra una curva chiusa, ma per un osservatore che vive sulla sfera quella roba lì è una curva dritta, naturalmente, quindi la nozione di dritto si converte nella nozione un po' più generale di curva geodetica, gli osservatori fedeli seguono le geodetiche, e gli osservatori infedeli, no, quindi siamo sul razzo, spariamo il nostro oggetto propulsivo dietro, sentiamo un'accelerazione, quindi sappiamo che non stiamo seguendo una geodetica, sappiamo che siamo osservatori infedeli, che stiamo tradendo ciò che vorrebbe il campo gravitazionale, stiamo andando da un'altra parte, abbiamo altri piani, gli diciamo, ma a me non siamo abbastanza grandi per badare a noi stessi, se spegniamo i motori, invece, quell'accelerazione non la sentiamo più, e ci sentiamo galleggiare, perché ci stiamo muovendo, magari ci stiamo muovendo, comunque, siamo solidari, rispetto, dicevo, al sistema di riferimento, ma siamo solidali con il campo gravitazionale, se lui ci tira, noi ci muoviamo e lasciamo che ci sposti, e quindi galleggiare, non sentiamo delle accelerazioni date da una deviazione, da un percorso geodetico, e fin qua ci siamo, ma sulla Terra? E sulla Terra io, che sto seduto a questa scrivania, non sono un osservatore solidale col campo gravitazionale, non sono un osservatore fedele, perché io dovrei cascare, cascare verso il centro della Terra, è questo che mi dice il campo gravitazionale, io sono infedele proprio nella misura in cui metto i miei piedi su un pavimento, oppure sul suolo, e questo mi impedisce di seguire il campo gravitazionale, e quindi, in un certo senso, la spinta del suolo mi fa accelerare verso l'alto, proprio come un razzo nello spazio, per bilanciare la trazione gravitazionale del centro di massa della Terra. E quindi, in realtà, sto accelerando, anche se non me ne rendo conto, e la sensazione di peso che abbiamo nasce proprio da quello. Quindi, non è la gravità, la ragione per cui sentiamo il peso, è la reazione vincolare del pavimento che ci tiene verso su, perché se il pavimento non ci fosse, noi cascheremmo verso il centro della Terra, e in assenza di attrito dell'aria, ci sentiremmo, occhi chiusi, galleggiare, come fossimo nel vuoto. Le due situazioni sono del tutto indistinguibili, da un punto di vista delle sensazioni, o in generale delle misure che un osservatore può fare. sapete, da un punto di vista fisico le nostre sensazioni fisiologiche non sono altro che misure particolarmente raffinate che passano attraverso sentieri biochimici, ma di fatto sono misure. Ebbene, lo stato di un osservatore in caduta libera è del tutto analogo allo stato di un osservatore che galleggia nel vuoto senza darsi propulsione, di una navicella spenta. Lo stato di un osservatore che ha un pavimento sotto i piedi è del tutto analogo salvo qualche caveat allo stato di un osservatore su una navicella con un razzo propulsore attivo. Ok? L'analogo della navicella che si lascia galleggiare nello spazio è il tizio che si tuffa da uno scoglio. Finché sullo scoglio sente il pavimento che lo spinge verso su e sente il suo peso. Ma quando si tuffa e ripeto molti di voi avranno esperienza di un tuffo da un posto alto se siete coraggiosi più coraggiosi di me quello che sentite in tal caso è l'attrito dell'aria non l'effetto della gravità. Tolta l'aria voi vi sentireste galleggiare esattamente come nel vuoto. Ok? E questo è molto interessante. Significa che gli osservatori se vogliamo migliori privilegiati fedeli più sensati più coerenti con la fisica che avviene nel nostro mondo non siamo noi seduti alle nostre scrivanie ma sono quei pazzi che si tuffano dagli scogli. Non è il tizio in aereo è il tizio che dall'aereo si è tuffato ed è questa la ragione per cui il tizio che dall'aereo si è tuffato non sente il suo peso sente di galleggiare a meno dell'attrito e quello sull'aereo no. E quindi veniamo alla nostra domanda centrale alla nostra questione centrale perché gli astronauti sulla stazione spaziale internazionale galleggiano? Ebbene la stazione spaziale internazionale è a tipo 408 km poi non so se si avvicini un po' si allontani un po' dalla Terra nel suo punto più vicino più lontano questo non lo so e la Terra ha un raggio di tipo 6.317 o qualcosa del genere chilometri 400 km rispetto a 6.300 km circa non sono niente e voi sapete che l'attrazione gravitazionale l'intensità della gravità della forza di gravità poi il campo è un po' diverso va come uno su ma è inversamente proporzionale al quadrato del raggio perché il campo è uno sul raggio ovviamente però poco male poco male ha a che fare con la distanza più ci allontaniamo più è debole ebbene dal centro della Terra il suolo è lontano 6.300 km la stazione spaziale internazionale 6.700 non può cambiare così tanto certo il campo gravitazionale è un pochino più debole la trazione gravitazionale è un pochino più debole ma non così tanto da giustificare una totale assenza di gravità sulla stazione spaziale internazionale la gravità della Terra è forte quasi quanto al suolo fissatevelo bene in testa dunque ci resta da capire perché la gente galleggi ebbene quella gente è esattamente nella stessa situazione in cui si trova un tizio che si è tuffato da uno scoglio sono osservatori fedeli al campo gravitazionale sono osservatori geodetici a meno che non si spingano con dei reattori per aggiustarsi in tal caso sentono la spinta sentono l'accelerazione sentono il peso e questo è tutto coerente con quanto dicevamo prima nel caso della stazione spaziale internazionale ho detto tipo spazione un mix strano loro si stanno muovendo di moto circolare in un'orbita stabile attorno alla Terra la ragione per cui pur essendo muovendosi nel campo gravitazionale solidale col campo gravitazionale per cui non cadono a Terra è che hanno un po' di velocità tangenziale quindi c'è una certa velocità angolare della stazione spaziale attorno alla Terra quindi il campo gravitazionale della Terra fa dalla forza centripeta necessaria a tenere la stazione spaziale internazionale lì che non basta per tirarla anche vicina quindi con una certa velocità tangenziale una certa velocità di rotazione attorno alla Terra a una certa distanza tutta la trazione gravitazionale va nel tenere la stazione spaziale in questo moto circolare esattamente come quando noi attacchiamo un peso a una corda e ci mettiamo a girare col peso in mano il peso sta a una distanza fissa perché noi imprimiamo sul peso una certa forza attraverso la corda e non si avvicina perché tendenzialmente noi giriamo e facciamo sì che quella forza sia esattamente quella che serve a tenere il peso alla distanza fissa dalla Terra ma non è vero che il peso non sente la forza della corda perché nella nostra analogia noi siamo la Terra la corda è la trazione gravitazionale e la stazione spaziale internazionale è il peso alla fine della corda proprio perché sente la corda il peso non si allontana da noi perché se ad un tratto la corda venisse tagliata o si rompesse il peso continuerebbe tangenzialmente e volerebbe via e lo sapete tutti a me è capitato gira con un peso per mollare la corda e lasciare che andasse non continuo al suo moto circolare e lo stesso vale per la stazione spaziale internazionale se ad un tratto la gravità venisse spenta se in realtà fossimo davvero in una simulazione la gravità venisse spenta oltre a un sacco di altri problemi la stazione spaziale internazionale continuerebbe il suo moto tangenziale verso l'infinito verso il sole verso il vuoto verso Giove verso qualunque cosa ci sia dall'altra parte quindi no non è vero che a livello della stazione spaziale internazionale non c'è gravità anzi senza gravità non sarebbe possibile ottenere esattamente quella forza centripeta necessaria ad avere un certo moto rotatorio per un oggetto di una certa massa che va ad una certa velocità attorno alla terra la gravità fa d'accorda e ce la tiene vicina e proprio perché loro si muovono sottoposti solo alla gravità nota una certa velocità tangenziale iniziale quello è il moto geodetico quello è il moto che la gravità vuole che loro abbiano capito se rallentasse un po' si avvicinerebbe pure no? o comunque cambierebbe la distanza cambierebbe adesso lasciamo stare le ragioni perché uno può indebolire la gravità cosa succede se uno indebolisce la gravità? se uno indebolisce la gravità ovviamente la stazione s'allontana un po' ok? s'allontana un po' e succedono un po' di cose o se perde massa cosa succede? si avvicina si allontana insomma ci sono delle equazioni ma non ci entriamo oggi la cosa importante è ricordare che no a quel livello la gravità c'è la gravità è fondamentale altrimenti non riusciremmo ad avere una stazione spaziale ad orbita fissa perché galleggiano perché si muovono solidali con la gravità esattamente come un tizio che salta da un tuffo esattamente come quel tizio in un ascensore a cui si è tagliato il cavo nell'esperimento mentale di Einstein esattamente come un tizio che vola nella sua navicella noi in questo momento seduti su una sedia in piedi su una strada che sentiamo il nostro peso non abbiamo troppa più gravità che è la stazione spaziale la differenza è quasi trascurabile ai fini del nostro discorso ma siamo vincolati da un oggetto che abbiamo sotto i piedi e quindi sentiamo il peso e quindi a gravità più o meno pari loro galleggiano e noi no ma siamo noi gli scemi siamo noi quelli che non si muovono in modo solidale con la gravità siamo noi gli osservatori infedeli loro sono perfettamente tranquilli sentono la gravità la gravità imprime loro un certo moto e quindi galleggiano perché non c'è alcuna altra forza a giocare sulla stazione spaziale internazionale quantomeno in prima approssimazione e fin tanto che senti solo la gravità tu non senti il tuo peso io vi ringrazio crononauti per essere arrivati fin qui io so di aver ribadito le cose tante volte ma ehi devono passare in modo chiaro soprattutto quando mi arrabbio un po' perché girano queste sciocchezze e ringrazio chi c'è stato in live perché noi questi video li registriamo in live con un pubblico che può commentare adesso si sta scervellando per cavare fuori un titolo credo perché ovviamente non posso guardare la chat ringrazio i crononauti che tengono vivo il gruppo telegram di spazi attorcigliati lo trovate qui ringrazio gli iscritti e mi raccomando iscrivetevi al canale se volete altri video di questo genere o volete aiutarmi a far crescere il mio progetto culturale su youtube e soprattutto ringrazio i tippers grazie al loro supporto economico posso permettermi questo materiale tecnico di livello un po' più alto di quello con cui ho iniziato per migliorare i video farli più velocemente e così via e ricordatevi che la cosa importante quando vi gettate in un buco nero è portare la testa a presto crononauti